Inversione di marcia per Beppe Grillo che apre a Matteo Renzi sulle riforme. Il leader pentastellato si è detto infatti disponibile ad un incontro con il Premier per discutere sulla stesura della nuova legge elettorale. Grillo finora ha sempre detto che non voleva mischiarsi con gli altri partiti, anzi voleva processarli nelle piazze. Che oggi cambia idea è molto positivo, quindi il PD è favorevole a un incontro. Naturalmente noi siamo per una legge elettorale maggioritaria e su questo ci confronteremo con 5 Stelle. La nostra non è un'apertura di credito ma un'apertura di merito al governo sulla legge elettorale. Vogliamo dare una legge elettorale a questo paese il prima possibile, lo vogliamo fare insieme e per questo abbiamo chiesto un incontro al governo Renzi. Un'apertura alla quale il segretario democratico risponde positivamente, chiedendo però che sia trasmesso in streaming, come solito fare lo stesso movimento per evitare che l'incontro si trasformi in un patto segreto, come fu definito quello con Silvio Berlusconi. Sarà inoltrata oggi la richiesta del Movimento 5 Stelle che non anticipa nessuna misura imprescindibile. L'obiettivo nostro è far sì che una legge votata da centinaia di migliaia di cittadini attraverso il portale possa essere portata nell'ordinamento giuridico di questo paese, anche collaborando con altre forze politiche. Poi capiremo anche quali sono le disponibilità e le richieste che vengono dall'altra parte. Un'apertura che non tutte le forze politiche vedono di buon occhio. Nuovo centrodestra ribadisce la sua partecipazione al tavolo delle riforme. Timori dall'area di scelta civica che chiede di non sacrificare la dinamica interna alla maggioranza per favorire i rapporti preferenziali, mentre Forza Italia teme un asse PD Movimento 5 Stelle. Timori che il Premier ha tenuto a smorzare, assicurando che il patto del Nazareno non è in discussione. Intorno al tavolo anche la Lega. Salvini, infatti, ha chiesto al segretario democratico di entrare a far parte della partita. Il Parlamento deve tornare centrale, tanto per la riforma del Senato che per quella elettorale. A questo punto, se il Movimento 5 Stelle si scongela, è una buona notizia, ma deve fare sul serio, così come abbiamo fatto fin qui noi di Sinistra Ecologia e Libertà.